E' una frecosa, quindi la messa di stasera non va bene per domani. Si uscì un po' di vista? Da, da, da. Certo. Certo. Sì, non mi spettacolo. Sì, non mi spettacolo. Sì, non mi spettacolo. Sì, non ci sono refugio dell'ordine, ma anche questi laterali chiudiamo, si aprono per l'uscita, si entra per la porta centrale. Inoltre, inoltre. Sì, le борiamo presto. Sì, le liberiamo le scade da ascoltare. Sì, le liberiamo le scade da ascoltare. Sì, le riportare non è bene. Grazie.